A tutti voi buonasera, bentrovati, prima puntata del 2022 di Talk24, torniamo quindi in onda e dobbiamo ripartire ancora una volta dai temi della pandemia, di questo, di molto alto, parleremo questa sera con molti ospiti in studio ma anche con dei collegamenti, vi illustro chi è con noi nei nostri studi, saluto e ringrazio il dottor Vittorio Sambi che dirige il laboratorio unico di analisi di Pieve Sestina di Ausola Romagna, dottore buonasera, torno a trovarci Giuliano Zignani segretario generale della UI dell'Emilia Romagna, buonasera, Massimo Bulbi, consigliere regionale del Partito Democratico, buonasera consigliere e in collegamento da Rimini c'è Patrizia Rinaldis, prima nostra ospite in collegamento, che è presidente dell'associazione albergatori di Rimini buonasera presidente eccola qua, tra poco avremo anche l'audio, allora, dottor Sambi, io partirei da lei perché siamo in settimane complesse c'è questo grande balzo di contagi, ci fa un primo assaggio di analisi della situazione innanzitutto? Beh, la situazione è abbastanza complessa, la prima cosa che credo sia necessaria sottolineare è che non tutti i casi positivi sono pazienti, abbiamo circa due terzi di soggetti che sono infetti ma completamente asintomatici e un terzo di soggetti che sono in realtà malati di Covid, questo è il primo dato che secondo me è da sottolineare. Il numero dei contagi è cresciuto in maniera assolutamente esponenziale negli ultime quattro settimane, un po' per i comportamenti abbastanza ovvi attesi che le persone hanno ottenuto durante le feste, c'è stata meno attenzione, quindi questo è facilitare la diffusione del virus, fuori di dubbio. Un po' perché effettivamente questa nuova variante che è stata chiamata Omicron che abbiamo individuato per la prima volta a inizio dicembre, oggi ha raggiunto il 100% delle infezioni, praticamente, quindi è una variante molto più trasmissibile, quindi il numero di casi che può generare è decisamente più alto. Oggi, se non ricordo male, l'ultimo dato regionale è di qualche giorno fa, ma abbiamo un R con T di 1,60, quindi vuol dire una diffusibilità molto molto alta, che significa sostanzialmente che un caso positivo ne fa 1,60. Quindi, dottore, la variante Delta è scomparsa sostanzialmente? Sostanzialmente sì, sostanzialmente sì. È un dato di qualche giorno fa, eravamo, la variante Omicron ha la capacità di raddoppiare la percentuale di identificazione ogni cinque giorni. Il 3 di dicembre avevamo l'1,7, l'1,8%, il 20 di dicembre avevamo il 20%, il 27 di dicembre avevamo il 47, 48%, il 3 gennaio dell'80. Ma questo può essere interpretato come un vantaggio o uno svantaggio? Credo sia un po' presto per dirlo. In linea teorica è esattamente quello che noi virologici aspettiamo da un virus che impara a diffondersi nell'uomo e che per essere un virus di successo deve fare pochi danni. Il virus di successo dal punto di vista evoluzionistico è un virus che si diffonde molto ma che fa pochi danni perché consente una maggiore diffusione. Se facciamo un paragone che ovviamente non c'entra niente ma se pensiamo alla diffusione del virus Ebola, Ebola è un virus di scarsissimo successo perché ha una letalità altissima per cui quando emerge colpisce una popolazione e la elimina sostanzialmente e poi torna nella foresta. Non è un virus di successo perché non ha una propagazione. Il virus SARS-CoV-2 probabilmente da quello che vediamo dal comportamento di quest'ultima variante Omicron sta diventando un virus che si adatta molto di più alla specie umana, che vuol dire infetta di più ma produce una malattia leggermente diversa. Sul fatto che la malattia da Omicron sia effettivamente diversa secondo me è ancora presto per poterlo dire perché quello che stiamo vedendo ancora negli ospedali è ancora Delta. Quindi chi entra oggi in ospedale si è infettato dieci giorni fa e Delta c'era ancora. Quindi abbiamo bisogno di qualche settimana secondo me per capirlo. Però è possibile. I filoni saranno due quindi questa sera. Sanitario da una parte, economico e politico dall'altra. Vediamo però questo servizio innanzitutto per capire anche l'andamento dei contagi sul nostro territorio. Autore della Romagna è puntuale nel comunicare l'andamento dei contagi. Contributo numero uno. Continua la crescita verticale su base settimanale dei contagi di coronavirus in Romagna. Crescono di pari passo anche i ricoveri, soprattutto nei reparti ordinari. Nulla a che vedere però con un anno fa. Continua l'effetto di Omicron, dell'inverno e dei ritrovi natalizi sui nuovi casi che negli ultimi sette giorni hanno stabilito un nuovo record nelle tre province romagnole, sfiorando quota 40.000. Notevole anche l'incidenza dei test. Più del 40% dei tamponi effettuati è risultato positivo. Un lavoro immane per il servizio di tracciamento e di drive-thru. Nell'ultima settimana sono aumentate di un centinaio le ospedalizzazioni. Con il virus che corre a ritmi così sostenuti, l'ASL si dice pronta in caso di necessità di aumentare i posti letto da dedicare ai malati covid. La sfida sarà quella di cercare di mantenere il non facile equilibrio tra servizi e spazi dedicati ai pazienti covid e attività ordinaria. Il livello di guardia resta alto. Siamo preoccupati ma non allarmati, afferma l'azienda sanitaria, il cui auspicio è che con l'obbligo vaccinale per gli over 50 aumenti la copertura soprattutto in questa fascia d'età, quella a maggiore rischio di ricovero se non vaccinata. Anche a causa della variante Omicron che, seppure meno aggressiva delle precedenti, può comunque portare a esiti gravi o fatali. Variante che nel giro di tre settimane in Romagna è passata dal 7 al 70 per cento dei campioni sequenziati. Allora Patrizia Rinaldis, vengo da lei, sono state settimane in cui si è soggiornato immagino di meno a Rimini purtroppo, le restrizioni hanno un po' danneggiato i festeggiamenti. Com'è andata? Che bilancio fa? Che prospettive avete per le prossime settimane? Diciamo che fare un bilancio è veramente difficile perché è una situazione che, come ha detto prima, evolve continuamente. Il dato di fatto è che la gente ha paura, per cui il turismo e tutto quello che è connesso, l'economia connessa al turismo sta soffrendo enormemente. Quindi abbiamo visto un capodanno con dei numeri veramente molto bassi, ma soprattutto vediamo che ci sono aziende che stanno chiudendo, aziende che manca il personale perché è in quarantena, perché diciamo che c'è anche molta confusione su quelle che sono le regole della quarantena, ma soprattutto vediamo che il turismo, visto che è movimento, è stato, è notevolmente ridotto, ma anche il turismo interno, non soltanto quello internazionale, ma anche il turismo interno ha molta più paura perché abbiamo questa comunicazione giornaliera, quotidiana che sicuramente non favorisce la voglia di fare vacanza. Tra poco sentiremo anche le parole del primo ministro Draghi che proprio recentemente ha detto la sua, forse con qualche ora di ritardo rispetto all'ultimo decreto. Zignali, vengo da lei. Quanto diceva il dottor Samri, quanto dice Patrizia Rinaldis, tanti contagi ma regole applicate ancora a un virus forse diverso, però insomma ci dà il quadro anche dal suo punto di vista? Guardi, tanto va detto che noi siamo per l'obbligo vaccinale, quindi il governo deve avere il coraggio politico di creare le condizioni per obbligare dei diciottenni su l'obbligo vaccinale, altrimenti questa situazione non ne usiamo. Poi è stata fatta una confusione dove dal mio punto di vista occorre ormai un va de mecon per cercare di capire ogni giorno come ci si deve comportare, perché poi alla fine credo che sia anche difficile capire come ci si deve comportare. Da questo punto di vista io penso che ne usiamo se cominciamo ad obbligare, altro che è la questione dei cinquantenni, se cominciamo ad obbligare le persone a avere il coraggio di fare questo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che nelle grandi realtà, nelle grandi aziende ancora la situazione è sotto controllo, perché comunque i rappresentanti alla sicurezza, le aziende stesse hanno lavorato, ma il problema non è tanto il posto di lavoro, il problema è che contrai il virus fuori e quindi i rischi te lo porti dentro e infetti in mezzo a mondo, quindi è una situazione come penso di aver capito dal dottore, fuori controllo, cioè è difficile anche da poter controllare e quindi si arriva ormai a pensare che occorre quell'altro passo che è quello di vaccinare le persone e di vaccinarle tutte, altrimenti non so fino a che punto possiamo andare avanti così, perché l'economia bisogna andare avanti, perché comunque il turismo bisogna andare avanti, perché occorre andare avanti. Io vedo ancora che ci sono delle resistenze anche da parte dei politici, ma anche da parte del sindacato stesso, di qualcuno del sindacato, non è che dobbiamo fare delle conferenze stampa per cercare di capire cosa sta succedendo, qui occorre agire, occorre agire, occorre agire alla svelta. Allora, stiamo parlando quindi di temi che coinvolgono il mondo del lavoro, a Bologna abbiamo interpellato un altro sindacato, la CGL, Super Green Pass sul posto di lavoro, sarà obbligatorio tra pochissimo, regia, vediamo il contributo 3. Un 2022 è l'insegna della sicurezza sul lavoro, sia dal punto di vista degli infortuni che della pandemia e quanto si augura la Fion CGL. Luoghi di lavoro sicuri, dove i lavoratori devono poter andare senza la paura di non tornare a casa, perché magari sono vittime di infortuni mortali, che stanno diventando una quotidiana rassegnazione. E noi non possiamo indignarci tutte le volte che abbiamo un infortunio mortale, magari facciamo sciopero e poi il giorno dopo riprendiamo le nostre attività come prima, perché questa ripresa, che è sotto gli occhi di tutti, sta diventando una ripresa anche sulla pelle della vita di chi lavora, perché gli infortuni mortali, anche in settori molto esposti come l'edilizia, sono una tragedia quotidiana a cui non possiamo rassegnarci. Il nuovo decreto del governo introduce l'obbligo vaccinale per gli over 50, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, a partire dal 15 febbraio prossimo e fino al 15 giugno del 2022, sarà infatti necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro. Non si può pensare di scaricare le contraddizioni, le difficoltà, le complessità di questo momento sul mondo del lavoro e quindi serviva l'obbligo vaccinale. L'abbiamo detto a settembre, nel frattempo il governo ha allargato le categorie di lavoratori che hanno l'obbligo vaccinale, pensiamo alla scuola, pensiamo alle forze di sicurezza, oltre al personale sanitario, quindi di fatto dando ragione alle impostazioni di Cigelle e Cislewil. E alla direzione giusta però ancora scontiamo delle contraddizioni, delle difficoltà, delle lentezze, avremmo bisogno da domani una crescita radicale della popolazione vaccinata, non solo chi ha un lavoro. E quest'idea che si risolve il problema mettendo dei vincoli a chi lavora non dà una risposta né come quantità né come tempistica adeguata alla complessità del momento che stiamo vivendo. Massimo Vulbi, allora abbiamo sentito il parere di due sindacati, uno in studio e un altro con il nostro servizio. 100 euro di multa a chi non si vaccinerà, una tantum, il suo punto di vista sulla situazione? Allora intanto sono anch'io d'accordo che bisogna fare di tutto per non fermare ancora il nostro paese. Quando si devono prendere decisioni è comunque sempre difficile per chi governa in modo particolare quando comunque nell'interlocuzione che hanno quotidianamente si trovano ad avere richieste che sono le più diverse. Personalmente anch'io sono convinto che l'obbligo vaccinale sia la soluzione che poteva e può risolvere tanti problemi, però sappiamo benissimo che viene comunque contrastata questa cosa da altri. Ci sono chi è favorevole e chi è contrario. Allora il discorso è chi governa deve assumersi le responsabilità, probabilmente lo si fa gradualmente perché appunto come diceva adesso il sindacalista della CGL ci sono delle novità, quelle che entreranno in vigore appunto in questi giorni, che vanno in quella direzione, però io vedo che la difficoltà è perché anche all'interno della stessa composizione del governo, che sappiamo benissimo che è molto variegata, non c'è una condivisione su queste azioni e quindi questo non aiuta neanche chi fa in quel momento al ruolo del primo ministro. Anche perché Bulbi mi sembra molto che la politica sia molto concentrata sul Quirinale, più che su altre faccende. Io penso che la politica comunque sia concentrata anche sulla pandemia. Ad esempio il segretario del mio partito dice che l'impegno prioritario deve essere comunque quello e quando ho anche detto, ne parliamo nell'anno nuovo perché i temi sono altri in questo momento appunto la lotta alla pandemia e il sostegno al nostro sistema produttivo quindi perché è un altro di quegli argomenti appunto che sono fondamentali, quindi era fondamentale concentrarsi sulla legge di bilancio, però è vero insomma il Quirinale oggi aiuta a creare un altro po' di confusione se proprio vogliamo dirla, soprattutto nella coesione della coalizione di governo. Allora Patrizia Rinaldi, se torno da lei perché si avvia, si avvicina alla primavera, con Pasqua inizia la stagione turistica in qualche modo e tornerà nuovamente il tema del personale già carente nelle ultime due stagioni. Quest'anno andrà meglio o andrà peggio? Io auspico che mi piacerebbe che andasse meglio, ma in realtà al momento ci sono difficoltà la gente si sta già muovendo per la ricerca del personale, quindi è una situazione, ripeto in evoluzione stiamo prendendo contatti anche con paesi grazie anche ai flussi, con Albania ed alto, spero che quindi sia più facile poter accedere anche a questo tipo di risorse con le scuole alberghiere, ma soprattutto io dico sempre che dobbiamo lavorare molto ridando una dignità al nostro lavoro. Certo che non mancano le difficoltà, cercheremo di affrontarle, ma la mancanza di personale io credo che sia uno proprio dei punti cardine delle nostre stagioni. Il motivo è sempre lo stesso, c'è chi dice perché c'è il reddito di cittadinanza, poi magari Isegnani ci dirà che non è così, dall'altra parte perché la qualità del lavoro non è quella che invece un lavoratore si aspetterebbe. Guardi, mi piacerebbe trovare quelle che sono le vere motivazioni senza doverci scontrare uno con l'altro. Io credo che l'economia si affronta, tutti ci dobbiamo mettere in gioco perché soprattutto un'economia turistica ha bisogno intanto di chiarezza, ritorno sull'argomento che stavate trattando prima. Perché mi dispiace dirlo, ma sicuramente questo è un virus che nell'economia ha avuto molto successo, tanto che l'ha messa in ginocchio. E un'altra cosa che mi piacerebbe dire è che le regole su questo Green Pass è importante pensarle anche per i paesi stranieri, visto che è considerato che il Green Pass non è riconosciuto, quindi non è applicato. Quindi anche lì ci vuole un atto di responsabilità da parte del governo di chiarire il prima possibile, perché noi abbiamo perso oltre 150 milioni di presenze nel 2021. Questo significa un danno enorme per tutta l'economia, sto parlando chiaramente a livello italiano. E sul discorso del personale, per entrare nel tema che lei mi ha posto, io credo che sia necessario mettersi tutti insieme a un tavolo. Quindi la colpa di uno o dell'altro, io credo che dobbiamo partire, ripartire, ripartire insieme e trovare degli strumenti che chiaramente non siano prettamente di assistenza, ma siano di condivisione e di aiuto. Zignani? No, no, ma io sono d'accordo. Io credo che questa pandemia rasetti tante cose e dobbiamo cominciare a capire cosa può succedere, cosa succede nei prossimi mesi. Il problema del personale è un problema vero e quindi è un problema dove dal mio punto di vista occorre anche rivedere tutto il sistema della formazione che abbiamo in questa regione. Cioè noi siamo una delle regioni più avanzate a livello nazionale per la formazione, il vero problema è che oggi il mercato del lavoro richiede tutta una serie di professioni, professionalità che magari la formazione non riesce a dare. Quindi abbiamo bisogno di mettersi lì e guardare un attimo tutto l'intero sistema. Secondo problema. Guardi, il secondo problema è questo. Io ho guardato questi giorni, ho visto questi giorni che la regione Emilia-Romagna, l'assessore Corsini, per via ci, certamente, questo ci mancherebbe altro, l'assessore Corsini convoca le parti sociali all'infuori del sindacato per quello che deve essere la soluzione rispetto alla Bolkeste e non convoca il sindacato. Allora, là dove ci sono 50 mila lavoratori, perché la costa Romagnoli rappresenta 50 mila lavoratori, tu come puoi tenere fuori il sindacato da una decisione, da una partita come questa? In questa situazione noi ne usiamo tutti insieme, perché dobbiamo cominciare a vedere come creiamo le basi, perché ci sia il rispetto dei contratti di lavoro, perché ci sia il rispetto delle regole del gioco, perché se la smette, ce la dobbiamo smettere di avere una delle più alte percentuali, che è quella della riviera di evasione fiscale, perché è così, perché c'è la malavita organizzata, perché abbiamo tutta una serie di problematiche che vanno affrontate tutte assieme e abbiamo gli anticorpi, cioè pensare di risolvere il problema con una parte solo, escludendo tutta l'altra parte, non si fa un servizio all'economia e non si fa un servizio alla società. Quindi non si tratta di accusare nessuno, si tratta semplicemente di cominciare a ragionare per il futuro della nostra economia, che in Romagna soprattutto e per quel che riguarda la riviera è una delle parti trainanti del nostro paese. Patrice Rinaldi, salutandola, abbiamo gli anticorpi? È d'accordo con Zignani? Se non le abbiamo facciamo come col virus, ce le creiamo. Va bene, grazie. Grazie a Patrice Rinaldi per essere stata con noi, buon lavoro. Noi ci fermiamo qualche istante e poi dottor Samri ripartiamo dai temi sanitari, vaccino, variante Omicron e sui tamponi. Ne facciamo troppi o ne facciamo in quantità sufficiente? Tra poco con noi su Talk24. Ed eccoci tornati in studio con Talk24. Saluto subito ringraziandola la sindaca di Cattolica Franca Foronchi. Buonasera sindaca, è ben arrivata. Buonasera a voi, grazie. Tra poco sono subito da lei, abbiamo tante cose di cui parlare, tra cui queste prime settimane del suo nuovo mandato. Ma prima volevo tornare dal dottor Samri perché il tema Covid è il filone di questa puntata. Allora dottore partiamo dai tamponi, se ne fanno tantissimi, moltissime persone sono senza sintomi come ci diceva poco fa. Allora forse è il caso di rivedere qualche norma dal suo punto di vista? Ma partirei da un punto che è già stato sollevato, cioè io ovviamente non mi esprimo dal punto di vista politico perché non è il mio mestiere, ma da medico virologo la vaccinazione ci risolverebbe un sacco di problemi. Un sacco. Perché noi oggi facciamo tanti tamponi per scovare i soggetti che sono potenzialmente in grado di trasmettere la malattia, anzi meglio, l'infezione. Non facciamo tanti tamponi per fare una diagnosi di Covid, facciamo tanti tamponi per scoprire a quelli che possono essere i soggetti che mantengono la circolazione virale. I numeri che stiamo gestendo, il laboratorio di Pieve, che credo sia il più grosso d'Italia a livello pubblico, è arrivato a 13.500 tamponi al giorno. Non vi dico quanto vale solo per i reagenti perché quando io ci penso mi tremano le gambe. Un tampone costa tra i 25 e i 30 euro. Voi moltiplicatelo, tutti i giorni va fuori quella cifra lì. Va fuori una cifra molto impegnativa, il laboratorio è decisamente sotto pressione perché la nostra capacità produttiva senza andare in sofferenza. Sofferenza vuol dire garantire alle persone che ci lavorano dentro dei turni di lavoro che siano gestibili sul lungo periodo. Vuol dire avere gli strumenti che hanno un carico di lavoro anche un po' superiore a quello per cui sono stati progettati. Ma noi stiamo lavorando H24 e gli strumenti stanno cominciando ad avere ovviamente dei problemi perché se uno strumento è fatto per andare 16 ore al giorno e tu lo fai andare 24 per un mese è chiaro che c'è usura, c'è cedimento e le persone ancora di più perché le persone che lavorano nel mio laboratorio credo che siano almeno sei mesi che non riescono a pigliare un giorno di ferie. Tutto questo è affrontabilissimo, cioè il nostro lavoro non ci spaventa. Ci spaventa il fatto che una parte consistente di questo lavoro in realtà non ha un'utilità ad oggi. Non ha utilità perché il tracciamento sul territorio, ovviamente non sto dando delle responsabilità ai colleghi della sanità pubblica, Dio me ne scampi e liberi, non è questo il problema. Il problema è che loro sono impegnatissimi nel prelevare e impegnatissimi nel gestire il risultato ma quando ci sono 5.000 nuovi casi al giorno in Romagna non c'è soluzione, cioè non si possono ricorrere. Sono 5.000 positività e non 5.000 malati. Però sono 5.000 positività che con le regole che ci sono oggi a cui bisogna dire guarda tu sei positivo stai in casa sette giorni o dieci giorni, dipende dallo stato di vaccinazione. Adesso io prima si diceva che le regole sono complicate, io confesso tutte le volte che devo parlare, guardo lo schemino perché non me lo ricordo. Però ecco. Però c'è da dire questo dottore che chi farà la terza dose già avendo avuto un contatto con un positivo non avrà la quarantena. Quindi cambia già qui il paradigma. Ma è fondamentale. Confermiamo ancora una volta la validità dei vaccini anche per i più piccoli. Assolutamente, assolutamente. Prima il consigliere parlava di un'obbligatorietà dai 18 anni in su. Io personalmente, ripeto, da medico non da politico, sono convinto che l'obbligatorietà dovrebbe essere dai 5 anni in su, perché la popolazione dai 5 ai 15 anni rasenta delle positività che sono superiori al 50% di quelli che testiamo. E non è così vero che i bambini si infettano e non si ammalano. Non è così vero. Basta guardare quello che viene fuori delle statistiche di utilizzo delle pediatrie e degli ospedali, ci sono dei bimbi che hanno delle problematiche acute legate all'infezione. Quello che non sappiamo, ma che nell'adulto cominciamo ampiamente a conoscere, è che il Covid non è solamente la fase acuta di infezione, è una malattia che ha degli strascichi a lunga scadenza, che oggi chiamiamo Long Covid, di cui conosciamo pochissimo, perché lo stiamo esplorando giorno per giorno, quindi non è che abbiamo un quadro sapendo cosa succede, no, stiamo guardando cosa sta succedendo. E sono strascichi assolutamente poco simpatici. Il più evidente è che ci sono persone che dopo 6 mesi, 12 mesi della guarigione non hanno recuperato l'olfatto e il gusto. Non sarà una cosa fondamentale, però sarebbe meglio avercelo. Senato dottore, prima di andare dalla sindaca di Cattolica c'è chi dice, in particolare per chi è vaccinato con terza dose, Omicron è un raffreddore e un'influenza. È giusto dirlo, è corretto? No, al momento io non me la sento di sostenere questa affermazione perché è quello che tutti noi speriamo, cioè che il virus, come dicevamo prima, sia adatti sempre di più. Se arriva in un vaccinato, insomma, dovrebbe diventare una di quelle patologie respiratorie che ci accompagnano normalmente dai primi di ottobre alla fine di marzo, che tutti chiamiamo influenza. Influenza non sono, perché sono altri virus che danno queste forme molto lievi, tre giorni di febbre, raffreddore, passa la paura. Ecco, Omicron potrebbe diventare così nel vaccinato. Ribadisco, nel vaccinato. Non abbiamo però ancora dati sufficienti per poter dire Omicron nel vaccinato è una sine cura. È molto probabile che sia così, però dobbiamo avere una consistenza un po' più grossa dei dati, perché se no diamo delle false certezze. Io non voglio fare del terrorismo, ma dare delle false certezze è altrettanto pericoloso. Allora, Franca Foronchi, sindaca di Cattolica, da poche settimane ci dà il suo quadro della situazione dal punto di vista di un primo cittadino di una località turistica a Natale, per le feste si è così a livello turistico lavorato poco. Ci dica come sta andando le prospettive future, il suo commento sulla situazione che stiamo vivendo. C'è chi dice regole troppo complesse, bisogna seguirle con lo schemino, dice la dottor Sandro. Sì, innanzitutto voglio dire che la politica si deve fidare della scienza, quindi secondo me è molto semplice. Noi non possiamo in questo momento pensare di avere le soluzioni che sono altre rispetto a quelli che sono i dati che ci dà la scienza. Non possiamo negare che quest'anno rispetto all'anno passato con i vaccini le cose sono migliorate, non per quanto riguarda i contagi, perché guardavo i numeri che mi sono arrivati questa settimana, della settimana passata, e noi abbiamo a Cattolica 3.111 casi totali, che non sono pochi. Abbiamo 882 casi che sono attivi, quindi su una popolazione di circa 17.000 abitanti capiamo che sono numeri molto più alti rispetto a quelli dell'anno passato. Però che cosa cambia? Cambia che per fortuna sono meno quelli ricoverati in terapie intensive e meno i decessi, quindi di questo noi dobbiamo tenere conto e dobbiamo capire che quindi i vaccini hanno in qualche modo funzionato e di questo è chiaro. Poi siamo ancora in uno stato di emergenza, questo non lo possiamo dimenticare, tant'è vero che come diceva lei anche le festività di Natale, che è stato comunque Natale diverso rispetto a quello dell'anno passato, Natale in cui le persone sono uscite, ovviamente mantenendo le distanze, con le mascherine, tenendo tutte quelle precauzioni che sono necessarie, però comunque non è un Natale di quelli che ci ricordavamo del 2019, per esempio è un altro tipo di Natale. Quindi anche dal punto di vista dell'economia questo ha sicuramente inciso non tanto in quello che si è fatto, ma anche nel sentimento che c'è nelle persone, nella forse paura e forse anche sfiducia in qualche verso, anche perché ormai questa pandemia sono ormai quasi due anni. Io sono un'insegnante, sono stata insomma a scuola fino alla fine di ottobre e devo dire che anche le scuole stanno soffrendo molto, anche la didattica, non è più la didattica quella alla quale noi eravamo abituati. Allora Sindaca, proprio sulla scuola, la interrompo un attimo, perché abbiamo sentito una preside di un istituto scolastico importante della città di Bologna, il contributo numero due. Lo vediamo poi e lo commentiamo anche con lei. 59 classi distribuite tra 5 plessi, due scuole dell'infanzia, due primarie e una secondaria. L'istituto comprensivo 12 di Bologna conta circa 1.400 alunni. Per tutti il ritorno in classe questa mattina ha portato con sé tante incognite. La più importante, quella che le racchiude tutte, ha a che fare con il rischio DAD. Nonostante gli appelli a ritardare il ritorno tra i banchi, la linea del governo non è cambiata e oggi i presidi si chiedono se e quanto si riuscirà a scongiurare la possibilità di dover tornare alle elezioni da remoto. Qui tra i plessi dell'istituto comprensivo 12, quasi ogni classe ha almeno un paio di alunni positivi, ma si prosegue con la didattica integrata, dunque da remoto solo i contagiati, perché l'infezione è avvenuta durante le feste e non c'è stato contatto con i compagni. La situazione è precisa, la preside Filomena Massaro e comunque in divenire. D'altra parte la rivista specializzata Tutto Scuola prevede che entro fine settimana in tutta Italia le classi in DAD saranno circa 200.000. La posizione dei presidi, anche mia, era quella di poter avere il tempo di organizzare tutto questo perché teniamo conto che il decreto legge è stato pubblicato in gazzetta il sette sera, quindi siccome le procedure comunque sono complesse ci siamo ritrovati in una situazione non semplice. Una delle complessità maggiori ci spiega Filomena Massaro è legata alla gestione delle assenze dei docenti. L'istituto comprensivo 12 conta in tutto 20 insegnanti assenti per positività e due sospesi perché hanno rifiutato l'immunizzazione. La difficoltà a trovare sostituti perché anche tra i sostituti oltre ad esserci chi non risponde regolarmente perché non è disponibile ci sono anche dei positivi anche in quella fascia appunto di docenti. Allora, Sindaca Foronchi, la scuola come è stato proposto da qualche presidente di regione doveva restare chiusa permettendo solo la didattica a distanza o si è fatto bene a tenerla aperta dal suo punto di vista? Io credo che si sia fatto bene a tenerla aperta. È chiaro che noi non dobbiamo dimenticarci che nei luoghi dove si sta in tante persone è più facile contagiarsi. Però noi sappiamo quanto la didattica a distanza comunque ha pesato soprattutto per le persone più fragili, di quelli che hanno anche delle difficoltà diverse. Quindi molti ragazzi sono rimasti anche indietro rispetto a quelli che sono i programmi e quello che si riesce a fare in presenza. Quindi oggi bisogna dire che bisogna vaccinarsi. Noi oggi abbiamo il vaccino. Il vaccino in qualche modo ci tutela, ci aiuta, aiuta soprattutto gli operatori sanitari, anche di questo non ci dobbiamo dimenticare perché gli operatori sanitari sono fortemente in stress, le strutture e questo mette anche in difficoltà il non male corso, diciamo così, degli interventi chirurgici, di tante cose che in questo momento sono in sofferenza. Quindi noi dobbiamo cercare di invitare le persone a vaccinarsi perché questo abbiamo visto che è l'unico strumento che noi oggi abbiamo per poter affrontare in maniera più diciamo serena questa pandemia che c'è e che ancora non è terminata e che forse ha degli sviluppi più importanti anche alla fine di questo mese. Allora Bulbi, la scuola è restata aperta, scelta buona per lei? Scelta buona per le stesse motivazioni che diceva il sindaco. Mi permette però due cose velocissime. La prima che sono comunque d'accordo che la vaccinazione 5-18 anni è assolutamente importante. Lo è al punto che noi domenica ci sarà l'open day, il vaccino day, dove appunto si potrà vaccinare senza prenotazione in tutta l'Emilia Romagna, ci sarà almeno un punto vaccinale per ogni realtà dove dai bimbi di 5 anni in su si può appunto andare a fare la vaccinazione. È importante anche perché abbiamo visto che nelle scuole il punto di trasmissione è stato molto importante soprattutto sui bambini asintomatici che ce ne sono tanti. Lo so che non si deve parlare di cose personali, mia moglie una di quelle che ci è caduta prima di Natale, insegnante e ci è caduta in questa cosa qui. C'è un ultimo aspetto che è importante che voglio riprendere, un ragionamento che faceva, che veniva dal ragionamento che faceva il dottor Sambri che è il costo, le spese. Il nostro Presidente della Regione giustamente da tempo sta chiedendo al Governo di mettere fuori dal bilancio delle Asla tutti i costi della pandemia che sono tantissimi, stiamo parlando di, a livello nazionale si parla di circa 10 miliardi di euro, ma è necessario perché noi abbiamo chiesto in quel momento le As che funzionano, che sono le più virtuose, come quella della Romagna, assumete, assumete professionisti, paramedici, assumiamo, abbiamo assunto, però poi è chiaro che queste sono delle assunzioni che bisogna tenerle a tempo indeterminato, non perché è una cosa che serviva per sei mesi. Quello sono dei costi che non possono andare a carico dell'Asla nazionale. Il costo che diceva prima il dottor Sambri è spaventoso, io non ci ho mai fatto questo ragionamento, ma è un costo che è giusto che vada nel bilancio delle Asla nazionali. No, anche perché non può andare, quindi voglio fare anch'io l'appello che da tempo sta facendo il nostro Presidente Bonacci, dire bene, i costi della pandemia devono essere tolti dai bilanci delle Asla. Signale. Sì, questo mi dà la possibilità di fare una riflessione e prima o poi la dovremo approfondire. Io ho la netta sensazione che questo governo, che è un governo liberista, abbia un'idea della società ben diversa dall'idea di Bonaccini. E guarda caso, le regioni che stanno meglio sono le regioni dove le multinazionali hanno in mano la sanità, Veneto e Lombardia. Le regioni che stanno peggio sono le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, dove la sanità è una sanità pubblica e quindi non è privata. Peggio dal punto di vista economico? Ecco, appunto. Dal punto di vista economico stanno meglio rispetto all'Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna, come le altre regioni, soffre di più, perché l'Emilia-Romagna per due anni ha pagato 850-870 milioni per il Covid, il governo al sistema delle regioni dà 600 milioni, al sistema delle regioni. Quindi 2020, Massimo lo sa bene, 2020-2021 riusciamo ad andare avanti, 2022, che tanto questa va avanti, questa questione qui, non si sa. Cosa vuol dire? una cosa molto semplice. Rischio di tagli posti letto, seconda questione, blocco del turnover e aumento della tassazione locale. Queste sono le tre questioni che rischiamo nel 2022. Quindi, dal momento che questo governo non dà quello che deve dare alle regioni, e quindi non ha ragione Bumi, non dà quello che deve dare. Cioè, noi abbiamo fatto una lettera assieme alla regione Emilia-Romagna, chiedendo al governo praticamente che tiri fuori i soldi necessari, vista l'emergenza, visto quello che c'è, il governo fino al 2021 non ha tirato fuori i soldi che servono per coprire le spese Covid. Quindi, da questo punto di vista, la mia idea, dato che si dice che pensare male a volte ci si azzecca, è che ha un'idea di una società diversa da quella dell'Emilia-Romagna. Un'idea di società diversa. E io non accetterò mai che la sanità pubblica vada in mano alle multinazionali. Allora, Sindaca Foronche, abbiamo ancora pochi minuti per questo blocco. Volevo chiederle un bilancio di queste prime settimane di lavoro. La sua vittoria arriva dopo cinque anni di parentesi a 5 stelle, diciamo così. Qual è stato lo spirito di questo suo nuovo incarico? È chiaro che siamo arrivati con un grande entusiasmo, con un programma che ha voglia di dare risposta ad alcuni temi importanti per la città. Ci siamo messi subito al lavoro, abbiamo già cominciato ad organizzare alcuni progetti che erano i progetti cardine del nostro programma, una nuova scuola, abbiamo una manutenzione straordinaria della città, una risistemazione anche di alcuni edifici che hanno bisogno di manutenzione straordinaria, un occhio ai quartieri, alla sicurezza, alla scuola, alla pubblica istruzione, perché noi crediamo che la scuola sia una parte fondamentale e poi ci siamo concentrati anche sulla parte del lavoro, del turismo, perché credo che questo sia fondamentale. Prima noi dicevamo come questa pandemia abbia fortemente inciso su una parte, su un'azienda, su un'industria più importante della nostra riviera che è il turismo e noi su questo dobbiamo continuare a lavorare in maniera seria perché questa è uno dei punti più importanti per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda la nostra economia. Quindi noi siamo pronti, ci stiamo già organizzando di nuovo per gli incontri, le manifestazioni turistiche, sportive per la prossima estate e siamo anche fiduciosi e speriamo che ci sia da parte anche di una collaborazione forte da parte dei cittadini che le persone capiscano che per poter uscire da questa situazione di difficoltà ognuno di noi deve fare la sua parte e in questo momento bisogna fidarsi della scienza. Allora grazie sindaca Franca Foronchi, buon lavoro, grazie per essere stata con noi, ci fermiamo qualche istante, un po' di pubblicità e per l'ultimo blocco insieme avremo ospite un altro primo cittadino perché in Romagna sono tornate ancora una volta. Le scritte nuova AXA tra poco. E eccoci in studio, ultima parte insieme, Torque 24, tema Covid, economia, politica. Dottor Sambri, i vaccini abbiamo più volte citati, è importante fare anche la terza dose ma c'è chi dice, in Israele lo stanno già facendo, quarta dose, è presto per dire che sarà così anche da noi? Ma sì, diciamo che tutti stiamo guardando all'esperienza israeliana per capire che cosa vuol dire fare la quarta dose. Io credo a buon senso, non ci sono ancora dati che possano sostenere questa affermazione, ma credo proprio che il vaccino anti-Covid diventerà una consuetudine necessaria perlomeno su base annuale, un po' come si fa il vaccino dell'influenza, insomma. Il Covid come è arrivato non è che scomparirà, quindi potrà adattarsi, potrà cambiare la sua capacità di muoversi nella specie umana, ma non è un virus che torna nei pipistrei da dove viene, insomma, qui ce l'abbiamo. Quindi pensare che la vaccinazione anti-Covid possa essere una realtà da sostenere, credo che sia assolutamente il minimo del buon senso, che poi sia una volta all'anno, ogni sei mesi, ogni diciotto mesi, onestamente al momento non possiamo dire. Ecco dottore, altra domanda che magari a casa si pongono spesso, sta diventando una endemia, cosa vuol dire? Endemia vuol dire che il virus circola in maniera come quello che dicevamo prima, cioè in maniera molto tranquilla, non produce una malattia particolarmente severa, colpisce un certo numero di persone senza generare un aumento delle ospedalizzazioni, senza generare dei problemi che possono interferire con la normale vita delle persone. È quello che tutti noi speriamo che succeda a breve, insomma, e ripeto, riprendo un attimo quello che diceva prima la sindaca, se ci vacciniamo tutto questo è molto probabile. Parlandone con i colleghi clinici, specialmente gli infettivologi che seguono i pazienti in ospedale, quello che ti dicono in maniera invariabile, il Covid-19 nel paziente vaccinato è una malattia diversa rispetto al Covid-19 nel paziente non vaccinato. Quindi questo credo che sia un'affermazione importante, insomma. E anche la questione è che comunque chi è ricoverato in terapia intensiva ora per il 70%? 82% se non ricordo male i numeri, sono persone non vaccinate, ma questo non basta. Dura 3 su 4 nell'intensiva qui da noi. Perché il problema è 82% di 700 mila persone, il 18% di 4 milioni e 200 mila persone, cioè la proporzione è molto diversa, cioè non è 82 contro 18. Allora i dati della scienza quindi parlano, parlano chiaro e nonostante questo succedono ancora oggi in Romagna scritte Novax. Allora subito vado a Lugo dal sindaco Ranalli. Sindaco buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora cos'è successo oggi? Ma questa mattina ci siamo svegliati con una sorpresa poco piacevole, nel senso che in prossimità del nostro hub vaccinale di Lugo sono state rilevate delle scritte che facevano riferimento all'accostamento tra le persone pro vaccino e i nazisti ed una scritta che mi riguardava personalmente. Quindi diciamo ancora una volta abbiamo dovuto fare i conti con l'ignoranza delle persone che poi si traduce in quello che abbiamo visto, cioè il fatto che per affermare un principio, peraltro in questo caso sbagliato, si fa spregio alla città tutta, di fronte a un muro di una scuola, quindi anche a un luogo frequentato da ragazze e da ragazzi. Mi pare proprio che stiamo veramente in alcuni casi passando il limite con queste affermazioni dove appunto si vuole fare passare il messaggio che i vaccini uccidono mentre ci è appena stato spiegato in maniera molto chiara e scientifica come i vaccini in realtà salvino la vita. Allora ora ovviamente noi abbiamo scelto di invitarla, noi non vogliamo dare più di tanto risalto a queste faccende, anche noi qui a Teleromagna siamo stati colpiti da scritte, ma insomma più che altro per invogliare ancora una volta le persone a fidarsi della scienza e non a delle fake news che magari possiamo trovare su Google, Sindaco. Beh sì, noi abbiamo un compito importante che è quello appunto di fare sì che le persone si fidino della scienza e soprattutto si rendano conto dell'importanza che il vaccino sta avendo nel contrastare questa epidemia. Qui siamo oltre alle fake news, siamo cioè dentro una dinamica proprio in cui il principio sbagliato viene portato avanti con delle modalità altrettanto sbagliate. Quindi qui secondo me c'è proprio una divaricazione forte tra civiltà e inciviltà. Siamo dentro un ambito che è ancora oltre il rapporto tra verità e scienza. Dottor Sambri, il dottor Google però impera purtroppo, questo è un problema per voi medici secondo me. Sì, assolutamente. Però io credo fondamentalmente una cosa, una delle obiezioni che chi è contrario al vaccino continua a propugnare si tratta di un farmaco sperimentale. Ne abbiamo somministrato più di un miliardo di dosi in un anno. Nessun farmaco nella storia della medicina è stato usato in questa maniera. Quindi la conoscenza di questa pratica vaccinale è forse la conoscenza scientifica più ampia che abbiamo mai avuto nella storia della medicina. Allora continuare a dire che è sperimentale a me fa sinceramente sorridere perché un miliardo di doi somministrate non è un esperimento. Non può essere un esperimento. Quindi io credo che l'altro giorno leggevo su, me l'ha girato un amico e collega che si occupa di fisica e di biologia dei sistemi complessi, un post su Facebook, sono quelle cose che tanto adesso vengono fuori, in cui si diceva che non si può scrivere su un sistema che ti consente di metterti in collegamento di tutto il mondo, che è nato grazie ai satelliti, a tutto quello che abbiamo, che non si crede nella scienza. Se non si crede nella scienza si scrive con un pezzo di carbone su una parete di una caverna. Ecco, se uno non crede nella scienza va lì. Se uno utilizza i sistemi che abbiamo a disposizione oggi nella scienza è obbligato a crederci perché quella è scienza. Allora quello che diceva prima la sindaca secondo me è importantissimo. Io confesso che dopo quasi due anni in cui viviamo in una maniera, non voglio dire difficile, però insomma abbastanza complicata, come tutti quelli che si occupano di sanità, la pazienza è un po' finita, molto sinceramente. Anche la voglia di mettersi in relazione. Prima sentivo il segretario della UIL, io fra settembre e ottobre ho fatto una serie di incontri chiamato dalla FIOMCGL nelle aziende metalmeccaniche della provincia di Bologna. Aziende grosse, insomma, ma quindi incontrando le persone proprio per cercare di spiegare che insomma bisognava cercare di andare in una certa direzione per evitare di farsi un tampone al giorno, che è una cosa che non ha se ha un senso, anche dal punto di vista epidemiologico non ha senso, perché il tampone fotografa quel momento lì, dieci minuti dopo puoi essere positivo, quindi non ci dà nessuna certezza in quell'ambito. Io confesso che al decimo incontro non ne volevo più sapere, perché le obiezioni sono sempre quelle. Tu cerchi di argomentare, di trovare il modo di come... Pensi in noi? Eh, appunto, quindi voglio dire, è una situazione dove sembra di parlare in cinese con uno che capisce solo l'arabo antico, cioè non ci sono mezzi di comunicazione. Ed è forse per questo che Zignani diceva obbligo vaccinale, tu cura. Assolutamente, sì, 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 assolutamente. Zignani è d'accordo? Io sono d'accordo e tra l'altro me ne rendo come, noi tutti i giorni abbiamo, come posso dire, impattiamo con queste realtà, con questi problemi, però ci sono due ordini di persone. Allora, ci sono i vandali, che sono quelle persone che non aspettano altro. Le faccio un esempio. Secondo me, se non c'era il vaccino, queste persone qui andavano in piazza chiedendo il vaccino. Poi ci sono quelli che ci credono veramente. Quindi abbiamo visto quello che è successo a Roma, abbiamo fatto anche una manifestazione dopo quello che è successo in sede della CGL, la mattina avevano imbrattato la sede vostra, Teleromagna, della Will, della Cisla Forlì, quindi, e poi è successo quel che è successo e quindi abbiamo fatto anche una manifestazione. Questo per dire che dentro a questi gruppi ci sono anche persone che nulla hanno a che vedere con quelle persone che io rispetto ma non condivido, che magari ci credono realmente, no? Ci credono realmente. E quindi però su questo è ora di dire che dal mio punto di vista il, come posso dire, il modo di spiegare e il fatto di arrivare a dire li dobbiamo convincere per me è finito. Perché questi non si convincono più. Cioè sono persone che non si convincono più. Quindi a questo punto occorre arrivare alla questione dell'obbligo vaccinale. Solo così tu risolvi il problema. Perché ha ragione il dottore. Cioè noi abbiamo il blocco del turno, le ferie che non vengono date, l'infermiera che abbracciava l'Italia che era su tutti i giornali oggi è quell'infermiera che non ne può più. Proprio perché hanno la famiglia a casa, hanno una serie di problemi, sono giorno e notte dentro uno spazio. Poi quando ti trovi che hai a che fare con queste persone che si presentano con l'avvocato, perché magari devi parlare con l'avvocato, il medico, non è che è successo a me. Ho saputo che ci sono medici che hanno dovuto rispondere all'avvocato per curare la persona che era malata di Covid. Cioè siamo all'eccesso. Siamo tra virgolette in senso buono di quella follia delle volte. Quindi occorre a questo punto fermare la questione. I vaccini hanno salvato l'umanità e i vaccini salveranno anche questa volta l'umanità. Io non sono convinto che sia stato il pipistrello, ma questa sarebbe una discussione che ci porterebbe un po' più avanti. Non sono assolutamente convinto. Sindaco Ranalli, dal suo punto di vista l'obbligo vaccinale così esteso, si diceva, dottor Sami diceva, dai cinque anni in su potrebbe essere una soluzione? Io credo che arrivati a questo punto sia l'unica soluzione. Nel senso che questo è un paese e un governo che ha tentato, secondo me anche giustamente, per non aumentare le tensioni sociali, visto il clima che si era creato, di costruire le condizioni affinché le persone potessero mettersi in una condizione di scelta consapevole, quanto più consapevole possibile. Quando le reazioni a questo tentativo di mediazione sono quelle che abbiamo visto stamane, piuttosto che quelle che venivano ricordate prima, a questo punto credo che l'atteggiamento più giusto e più serio per tutelare tutti i cittadini sia quello di mettere l'obbligo vaccinale. Questa è l'unica soluzione in un paese che ancora continua ad avere queste strutture rispetto ad una situazione grave come quella che stiamo vivendo. Bulbi, facciamo un riassunto? Obbligo vaccinale allora? Sì, ma con non i 100 euro di molto, uno tanto. Mi verrebbe da dire che io ho degli amici purtroppo che non sono vaccinati e non si vaccinano, fanno parte di quelli non che tirano i sassi, ma che io non ce l'ho fatta convincerli. Quelli dicono, vabbè, 100 euro le paghiamo. Voglio dire, può anche andare bene che l'agenzia delle entrate decide bene, siccome io me ne accorgo subito, ti faccio pagare i 100 euro, ma se è una cosa obbligatoria, bisogna andare sul penale. Dopo se vai sul penale le cose cambiano, perché ti cambia comunque la vita, no? Allora, so che domani avrò scritte anch'io, tanto sono abituato ad averle, però se siamo d'accordo, io sono d'accordo che bisogna andare, adesso l'unica soluzione è l'obbligo vaccinale, però poi bisogna essere anche conseguenti sui controlli, perché anche qui da noi sui controlli abbiamo qualche pecche, non so, io so ma non lo dico come si doveva organizzare, quindi chi potrebbe avere delle responsabilità su questo, ma oggettivamente anche i controlli nei bar e nei ristoranti, piuttosto che in altri luoghi pubblici, vengono fatti su segnalazioni spesso, ecco, poi non è così da tutte le parti, ma chi come me abita in collina barra montagna, vede che è così, perché non vengono a fare i giri alla mattina alle 7 o la sera alle 19, ecco, perché sono quelli gli orari dove magari la gente va più nei luoghi pubblici, nei bar o quant'altro, quindi obbligo vaccinale sì, ma anche con più controlli e soprattutto più multe. Allora, pochi minuti ancora per questa puntata, Burbi, volevo fare con lei una chiacchierata in finale di prospettiva politica, perché lei è l'unico esponente di un partito politico, allora tutto il mondo parlamentare è impegnato in quello che sarà la corsa al Quirinale, innanzitutto, un paio di domande, Berlusconi ce la farà? Penso di no, poi potrei mettere anche spero e auspico di no, però penso di no, io spero che si arrivi alla 7 e 8 votazione. E quindi ci vorranno diversi giorni. Perché potrebbe essere la soluzione, che è quello che per me sarebbe la cosa migliore, che tutti a quel punto lì vado a una mattarella a dire fai il secondo giri. Però è Massimo Bulbia, poi sapete sono amico del Presidente, quindi faccio fatica a dire una cosa diversa, però penso che sia la cosa giusta. È l'unica soluzione possibile in questo momento. Però fino a che se non arrivi alla 7 non ce la fai. In questo momento è l'unica soluzione possibile. Che le prime tre andranno sicuramente vuoto, dalla quarta in avanti si capisce se Berlusconi o comunque un altro caricato del centro-destra può avere una possibile via di uscita, quindi una soluzione positiva, un esito positivo, dopodiché si apre tutto. Secondo me ha ragione il mio segretario quando dice ci deve essere comunque una candidatura che è non divisiva, ma che unisce. Prima il sindaco di Cattolica ha detto una cosa benissima. Si esce e si esce insieme nelle situazioni difficili, nelle situazioni complicate. Andare a proporre dei nomi divisivi che siano da una parte o dall'altra sarebbe un errore per me. Però ripeto, in questo momento ci vuole una condivisione. Condivisione e insieme sono le due parole che servono al Quirinale. Quindi insomma, sia lei Bulbi che anche Zegnani mi pare di capire, escludete a vostro avviso il nome di Draghi a questo punto? Zegnani e poi Bulbi. No, non lo escludo io. No, no, io non lo escludo. Dico che in questo momento Draghi sta bene sia a fare il Presidente del Consiglio che alla Presidenza della Repubblica. O è da una parte o è dall'altra. Perché altri uomini io al momento non ne vedo. Quindi la soluzione migliore, ma questo è un mio pensiero strettamente personale, una mattarella per un certo periodo di tempo, traguardiamo il periodo, vediamo un attimo di uscire da questa situazione e dopodiché la partita diventa una partita aperta. Ranalli è d'accordo con questa visione? Ma allora, chiaramente l'auspicio, soprattutto in un momento difficile come questo, potrebbe essere quello di mantenere l'assetto attuale. Devo dire che è abbastanza disturbante pensare che a un Presidente della Repubblica gli si chieda di restare un tempo sufficiente per costruire le condizioni sapendo già chi può essere colui quale gli può succedere. Se si va da Mattarella gli si deve prospettare l'ipotesi che Mattarella sta per tutto un'altra sette innata. Lo trovo più rispettoso. Ricordiamo quello che fu con Giorgio Napolitano, venne rieletto per altri sette anni, poi fu una sua decisione di lasciare l'incarico dopo due anni, un anno e mezzo? Fu una sua decisione nel quale però non si sapeva già chi sarebbe potuto essere il suo successore. In questo caso mi sembra un po' politicista l'opzione di costruire una soluzione a termine per una grande personalità come quella che è stata Mattarella. Se gli si chiede un impegno gli si deve chiedere fino alla termine del settennato e questo secondo me potrebbe essere una soluzione forse per fargli cambiare idea rispetto alla sua posizione. Stiamo facendo i conti senza rossa, cioè con il Presidente della Repubblica, il Dottor Sambri è d'accordo? Io parlo da cittadino. Sinceramente alcune soluzioni che sono state prospettate adesso a me lasciano perlomeno perplesso i nomi che ha fatto il centrodestra, quello che diceva prima, insomma mi sembra veramente che il nostro Paese possa auspicare a qualcosa di un po' più istituzionale. A me piacerebbe molto che il Presidente della Repubblica fosse l'espressione della volontà politica congiunta insieme di tutti quelli che siedono in Parlamento perché è comunque il super partes garante della Costituzione, quindi dovrebbe essere una figura di quel tipo, insomma, che sia Draghi che sia un altro, onestamente va molto al di là delle mie capacità di giudizio, non sono un politico, però a me piacerebbe una figura veramente che nascesse da una condivisione che fosse un garante della Costituzione. Allora, in estrema conclusione, un minuto a testa. Come vedete i prossimi settimane, le prossime settimane, i prossimi mesi, sia per il nostro territorio, Romagnolo, che per il nostro Paese? Zignani, parto da lei. La situazione economica, per quel che riguarda la situazione che abbiamo, beh, tutto è legato a quello che succede con l'evolversi della situazione della pandemia, perché tutto è legato qui. Partiamo dal di lì per capire come affrontiamo anche, sembra così, ma tra un po' dobbiamo cominciare a parlare della Pasqua per quel che riguarda tutta la questione del turismo e se abbiamo questa situazione temo che ci giochiamo un'altra Pasqua, quindi tutto dipende dal di lì. Ecco perché continuo a sostenere che chi non è convinto si convinca e che si vada a vaccinare. Perché questa è la soluzione per rimettere in moto tutto e per cominciare a vivere una vita un po' più serena, un po' più tranquilla. Bulbi, prospettive? Non abbiamo parlato del caro energia perché non avevamo possibilità di farlo. No, le prospettive sono sicuramente preoccupanti, però sono convinto e auspico che se questo governo rimane mette in campo tutte quelle azioni proprio per calmirare queste bollette. noi anche come Regione stiamo cercando di fare la nostra parte anche da un punto di vista di impegni del governo a, perché se no veramente ci sono delle imprese, stiamo parlando della ceramica, la ceramica se va avanti così è costretta a chiudere, insomma per il costo che ha di energia. Aggiungo solo a quello che diceva Zignani che abbiamo comunque delle opportunità e quindi ci servono quelle cose che diceva lui perché abbiamo delle risorse che sono arrivate, che stanno arrivando, che sono messe in campo. Dobbiamo essere capaci quindi di gestirle, dobbiamo essere capaci di condividere, e ritorno alla parola condivisione, i progetti in tutti i settori che vada alla sanità all'economia alle infrastrutture che siano viari o digitali, che mettono in condizione il nostro territorio, anche il nostro territorio di non perdere questa opportunità e quindi ripartire. E siccome noi romagnoli, adesso siamo in Romagna, noi romagnoli secondo me abbiamo una marcia in più rispetto agli altri e se siamo capaci, le istituzioni e le rappresentanze datoriali e sindacali tutti insieme a fare la nostra parte e spendere bene quelle risorse, allora la vedo più rosa. Il dottor Sambri Bolognese annuisce a tutto questo, vero? Sì, assolutamente, ormai sento quasi romagnolo d'adozione, sono nove anni che ci vengo tutti i giorni. Allora, dottore, sorridevo prima per quello, perché a caso me li dà mia moglie che di Reggio Emilia, e qui c'è il dottore. Eh beh, sono le miglia. Allora, dottore, c'è chi dice anche, parlando di, torniamo seri, Omicron, fiammata finale e poi si esce dalla patenia. Mi piacerebbe poterlo sottoscrivere, ma non sono certo che questa sia una scelta corretta. in prospettiva, io faccio molta fatica, confesso, io faccio, mi alzo la mattina con un programma in testa, quando vado a casa la sera e prendo la 14, di quello che avevo in testa non è successo quasi niente, perché è una situazione talmente evolutiva che si fa veramente fatica a capire che cosa ti succede giorno per giorno. Quello che secondo me però è un auspicio che io mi sento di sottoscrivere è, dobbiamo trovare un modo diverso di gestire questa situazione. Cioè l'emergenza non può andare avanti per tre anni, quattro anni, quindi dobbiamo ripensare come, io parlo dal punto di vista sanitario, possiamo gestire questa cosa. L'esempio che mi veniva in mente, di cui parlavo l'altro giorno, ieri mattina, mi sembra, con la dottoressa Angelini, responsabile del nostro Dipartimento di Sanità Pubblica, è se tracciamo in questa maniera, buttiamo via delle risorse. Allora, i soggetti vaccinati che sono contatti probabilmente non hanno bisogno di una quarantena, di essere verificati, cioè dobbiamo abbassare il livello di questa attività per fare che cosa? Per garantire che gli ospedali continuino a funzionare, perché io da medico faccio molta fatica a pensare che si possa ripresentare il problema che abbiamo avuto durante la prima ondata. Cioè nella prima ondata dovevamo decidere se la gente morì di cancro o di Covid, perché gli ospedali erano fondamentalmente dedicati solo al Covid. Ecco, questo non è ammissibile. Cioè noi dobbiamo fare in modo che gli ospedali mantengono la loro funzionalità, che le persone possano avere accesso ai programmi di screening, a tutto quello che è il mantenimento della salute. Se fossimo tutti vaccinati probabilmente questo problema ce l'avremmo molto di meno, no? E questa è una responsabilità che io mi sento di, in qualche maniera, imputare a chi fa delle scelte diverse. Sindaco Granali, a lei i 30 secondi finali, un auspicio per le prossime settimane, una previsione? No, io sono pienamente d'accordo con quello che diceva il consigliere Bulbi. Entriamo in una fase molto difficile, molto complicata, ma anche una fase nella quale, grazie alle risorse straordinarie che stanno per arrivare e anche al rimbalzo, diciamo, dell'economia che nella nostra regione avrà, come dire, numeri importanti, dobbiamo cercare con l'unità di intenti tipica nostra e tra le nostre istituzioni di lavorare perché tutti quei progetti che oggi sono in cantiere nei nostri territori si realizzino, creano sviluppo e questo si può fare solo in una condizione che è quella data da una sicurezza rispetto all'emergenza sanitaria. Quindi il vaccino torna ad essere nuovamente anche lo strumento per garantire la crescita economica. Bene, allora, ancora una volta, vacciniamoci tutti, terza dose, grazie ai miei ospiti, Giuliano Zignani, segretario del UIL dell'Emilia Romagna, Massimo Bulbi, consigliere regionale del PD, grazie mille, dottor Samri che dirige il laboratorio unico di Pieve Sestina, grazie al sindaco Ranalli, grazie a voi tutti, ci vediamo la prossima settimana, ancora una volta qui dai nostri studi. Grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana.